Teorema Audio Service, oltre ad essere un'agenzia di spettacolo, è anche un divulgatore di riti e tradizioni popolari del nostro Salento. Salute 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 Forever, doctor Surround me With your love Understand me I need you now Surround me With your words Understand me I need your love I need your love I need your love Surround me With your love Understand me I need you now 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.